Un'infinità di tipi ci saranno così, che non vedono l'ora di andare in pensione perché sono immaginati che devono fare questo tipo, cioè ci saranno i loro hobby, in questo caso il bricolage. No, mi dispiace guarda sono molto impegnato, a tal punto che forse non potrò neanche più tenerti il bambino. Non lo dire neanche. Eh sì sì, guarda quello che c'ho da fare. E che quindi non vedono l'ora di andare, poi però purtroppo cominciano i problemi. Cioè un mio amico ha detto guarda io non ne posso più perché mi tocca andare a fare la spesa, mi tocca fare tutte queste cose, io quasi quasi torno a lavorare. Ma che ho fatto di male io per meritarmi un figlio così? Da chi ha frappreso quel ragazzo? In mezzo a tra l'altro anche a problemi di cui non gliene frega tantissimo a lui, della plastica, di questo e quell'altro, il biologico, lui è uno che va al sonno domani. bella, sensuale, solare, mediterranea, soda, con tutte le sue cose a posto.